e salve a tutti ragazzi di questo nuovo video oggi è tornato in questo video in cui vi farò vedere è entrato un altro membro nel clan e vediamo un po è entrato un membro entrati tutti nel clan perché ad aggiungimento di mille follower entrato tutti perché vorrei che entrasse tutti per avere 20 di mille colmo e riscritto più che ci sarà una big sorpresa allora intanto andiamo quello questo raccogliamo raccogliamo tutto e piantiamo le carote sentiamo tutto allora vediamo tutto non c'è abbastanza è pieno quindi ok vediamo un po di pane e ora vediamo la barca allora e diamo anche nel clan se è possibile allora perfetto cercherò di fare la barca in più in più in fretta possibile e più quante credo che bastino perché non davvero tantissimi ci sono i capelli di lana vediamo vediamo al momento no però vediamo vediamo allora e cosa dobbiamo fare allora 35 mila mandiamo questo quanto mancano il mio monete e mettiamo a fare i cappelli non c'è che ci mette manca una cosa fondamentale la lana il granaio è pieno a vendere qualcosa di quel latte non ci serve mai niente il latte di questi la maglia via via così 1 e 2 ora mettiamo in l'indaco a piantare qui invece di qua aspettiamo che finisce e poi i biscotti che mettono a fare il biscotto i biscotti fanno oddio quanta roba una piccola un po accanto perché la posta di per amici fanno più in fretta possibile allora intanto allungando su un altro account per fare l'impianto aspettate un attimo che se qui ok qua finito e facciamo così prendiamo tutto quanti quanta roba ok vendiamo tutto e adesso mettiamo a fare i biscotti che si sblocca nello 10 che pizze non posso fare niente quindi l'unica cosa che posso fare è in pratica niente in questo altro account e cercarli i biscotti cercare i biscotti o ok su quest'altro account manco c'è la banca reala quindi vediamo un po i biscotti si blocca nelle 10 quindi devo mettere a fare tante cose da un minuto così prendo un po di esperienza perché l'esperienza e cosa vi devo dire che c'è una sorpresa che uscirà tra un po di giorni quindi non mi sbaglierò niente e devo fare queste tre poi metterò il video senza l'audio senza la voce mia quando sarà completo quindi mi metto lì e oddio regalano cose se no me le hanno ok regalano anche a me quindi ora vediamo se posso mettere il cane abbiamo ancora quattro biglietti vediamo un po se posso mettere e il cavallo no posso mettere un altro gatto e ha un no perfetto lui io vi saluto e vi devo dire che appena siamo arrivati a finire la barca la nuova barca io vi eh ve lo vi farò il video però senza l'audio vi faccio vedere già tutta bella completa quindi basta parecchio parecchio tempo noi ci vediamo in un prossimo video e ciao a tutti ragazzi